Andrea Stella, premio allo sport oltre allo sport, ha dimostrato che attraverso lo sport si può abbattere ogni barriera e anche le sue traversate a vela. Sì, assolutamente, gli ostacoli molte volte ce li poniamo, sono nella nostra testa o sono dei gradini che però si possono superare. Lo sport è un veicolo straordinario, a me la vela ha permesso di riprendermi in mano la mia vita, ho voluto offrire questa opportunità a tanti ragazzi con disabilità e credo che se lo sport è importante per tutti, per una persona che perde la speranza come avevo perso io dopo un incidente, lo sport ha ancora maggior valore. Diciamo che sono molto orgorioso di questo premio perché naturalmente penso che la cosa più importante sia la dicitura poi successiva, è un nuovo modello di vita e credo che questo sia ancora più importante di quello che ho fatto poi a livello sportivo perché poi a livello umano i valori sono decisamente più importanti, ecco l'aspetto sportivo è importante, ho fatto tanto di buono in carriera ma avere questo riconoscimento così particolare mi rende ancora più orgoglioso. Sicuramente è una spinta in più a continuare su questa strada, a riuscire a conciliare il percorso scolastico con quello sportivo e ho deciso di continuare a rimanere nel mondo dello sport perché penso che chi è stato tanto in palestra per il mio sport ma comunque in un campo da calcio è, sia difficile poi allontanarsi subito e quindi lasciare quell'ambiente. Quindi niente, è un augurio anche a questo premio per cercare di continuare su questa strada e andare avanti. Mister Sacchi, una vita per lo sport, cosa significa aver ricevuto questo premio in un momento specialmente in cui fare squadra è stato tanto importante? E' un onore, è un grande onore e anche chi me l'ha dato vuol dire che ha una gran memoria perché io che non alleno più sono quasi 25 anni quindi una vita fa. Quindi un giorno un giocatore mi disse, lavoriamo troppo così non mi diverto. Io riposi, guarda, noi ci dovremmo divertire per una proprietà transitiva, per come riusciamo a distrarre queste 70-80 mila persone che ci vengono a vedere tutte le domeniche e i milioni che ci guardano in televisione. Ricordati che quando noi daremo loro il massimo del nostro impegno e le emozioni loro ti saranno riconoscenti tutta la vita ed è così.